ciao un bacio a tutti allora secondo tutorial per san valentino è il primo ho fatto cuoricini cuoricelli cuoricio che poi arriveranno altri con cuoricini cuoricelli cuoricio mi ha morito la faccia che fa amore san valentino e love love cuore ma questa volta ho deciso di fare la base bianca due passate di questo pretty color che non sono come sempre e poi uso gli acrilici e faccio delle roselline perché comunque la rosa anche si regalano le rose si regalano i cioccolatini a san valentino c'entra anche quella c'è sta per san valentino allora acrilici di ennistore stupendi e uso allora ho sgocciolato scusatemi questo bel rosa perlato e poi il verde perlato per fare le foglioline e invece il nero di ennistore non ce l'ho uso questo qua sapete che non vede l'ora di finire e comunque già preparato il mio vassoietto poi vabbè l'acqua e il fantastico pennello di ennistore allora andiamo due passate il bianco adesso lo accantoniamo lo smalto perché non serve la base è pronta così e cominciamo col disegnare la rosa andiamo un pochino a bagnare il colore e Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.